cosa è la creazione secondo la chiesa allora in principio non c'era nulla né spazio né tempo nulla solo dio è difficile da immaginare infatti il nostro modo di pensare riflette l'esperienza e poi pensiamo in modo spaziale c'è difficile immaginare il nulla potremmo immaginare qualcosa per esempio una stanza vuota che non è nulla comunque in principio dio creò il cielo e la terra ex nilo dal nulla l'universo la terra fragole alberi di prugne lombrichi galline formiche uomini tutto come dio ha creato queste cose è una domanda che si fa la scienza il fatto che lui ha creato tutta la creazione è certezza di fede oggi la maggior parte degli scienziati propone che l'universo con lo spazio il tempo inizi con quello che è chiamato big bang questa teoria venne ipotizzata circa 90 anni fa dal fisico george lemaitre george lemaitre a proposito non era solo un professore di fisica un astronomo un collega di albert highstan no era anche un prete cattolico chi l'avrebbe mai detto tutto l'universo riflette la grandezza del creatore tutto il creato al suo posto anche l'umile lombrico ci sono creature visibili come pietre piante mucche uomini e ci sono creature che non possiamo vedere perché non hanno un corpo fisico parliamo degli angeli ecco gli angeli sono creature razionali come gli uomini ma non hanno un corpo materiale il nome angelo deriva dal greco angelos che significa messaggero perché dio ha ripetutamente inviato gli angeli a noi uomini come messaggeri questa è anche la ragione per cui sono dipinti con le ali non perché ne abbiano bisogno ma perché le ali simboleggiano il loro ruolo di messaggeri di dio benissimo ricapitoliamo quanto detto sulla credenza cattolica nella creazione dio ha creato tutte le cose dal nulla e dio continua a mantenere nell'esistenza tutto quello che ha creato tutto quello che esiste nell'universo cose visibili e invisibili provengono da dio tutto riflette la grandezza di dio tutto è stato creato per la sua gloria e tutto partecipa in qualche modo alla sua bontà gli angeli e gli uomini sono chiamati in modo particolare a partecipare alla bontà di dio infatti sono creature razionali possono conoscere dio come loro creatore e come fine a cui arrivare sono chiamati a partecipare alla vita divina questo in poche parole è quello che la chiesa cattolica insegna sulla creazione